Corri! Questa è la parola che non arriva? Che ho fatto! Non mi prendere! E' proprio il posto che ho fatto! E' un po' che vuole! Io ti prendo! Lato bella! Voi non vengo a vedere! E' un po' più bello che sta bruciando! Porco! Quindi mi metto il capello che mi metto in calina! E' un po' più indigno e non voglio fare! Adesso si riprenda il mio figlio! ...e non io其实 perché sono volto non sapecie non si rush la camogoria come le vieni le vieni, non mi hanno detto che�i fredda non mi hanno detto che non hanno detto che andiamo chiede là grazie, ragazzi, siete tutti non sono sono più conosciuse 50 gatti, certamente 30 ieri non si è proprio a fai un sacco a fai un sacco a fai un sacco a fai un sacco